A 130 anni dal suo transito al cielo è stata celebrata sabato 1 luglio la memoria del Beato Ferdinando Maria Baciglieri, che per 41 anni fu parroco a Galeazza Pepoli, piccolo villaggio nel punto di confluenza dei confini di tre province, Bologna, Modena e Ferrara. La celebrazione ha avuto luogo nel sagrato della parrocchia ed è stata presieduta da Don Paolo Cugini che lascia la cura delle parrocchie del territorio e al quale subentrerà Don Marco Ceccarelli che è anche vicario pastorale. Erano presenti con i sacerdoti del vicariato di Cento anche numerosi pellegrini provenienti da vari territori. La celebrazione è stata introdotta da Suor Donatella Nertempi a nome della Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza fondata dal Baciglieri. Esprime il desiderio profondo del Beato Ferdinando di farsi tutto a tutti senza fermarsi sul già fatto ma sempre pronto al bene da continuare a fare, a seminare, a sviluppare in sé e negli altri nel nome del Signore. Il Baciglieri è stato un uomo e un sacerdote che ha saputo ascoltare molto la realtà, le persone che andavano da lui o che lui andava a cercare. Ferdinando Maria Baciglieri nacque a Campodoso di Reno Finalese il 14 maggio 1821. Fin dagli anni dell'adolescenza sentì fortemente il desiderio di andare ad annunciare il Vangelo in terra di missione. La cagionevole salute e le necessità contingenti gradualmente gli fecero comprendere che nei piani di Dio la terra di missione sarebbe stata Galeazza Pepoli. Nominato parroco nel 1852, per 41 anni guidò con abnegazione e generosità pastorale questa comunità, rinunciando anche a più elevati incarichi ecclesiastici. Per rispondere alle urgenze del suo popolo si trovò quasi inaspettatamente a fondare la Congregazione delle Suore Serve di Maria di Galeazza. Ripieno dello Spirito del Signore fu apprezzata e illuminata guida spirituale di anime e coscienze per ogni categoria di persone. Logorato nel fisico, Ferdinando Maria morì il 13 luglio 1893 circondato da stima e fama di santità. È stato annoverato tra i beati da San Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999.